ciao sei pronta sì perché ti ricordo che sabato 7 dicembre alle ore 10 ci sarà una fantastica festa in studio come di consueto faremo la festa con tutti i bambini pazienti dello studio quindi anche tuo figlio non può assolutamente mancare qual è il programma beh intanto inizieremo con fare l'albero degli spazzolini sì perché sai che il nostro albero è diverso da quello di tutti gli altri e lo faremo tutti insieme un laboratorio interessante che faremo quest'anno riguarda gli zuccheri occulti quindi ogni bambino è invitato a portare le carte delle merendine o le lattine e le bevande che normalmente utilizza in modo tale da poter analizzare tutti insieme e sceglierne alcuni analizzare insieme il quantitativo di zucchero per poterne poi fare un pannello esplicativo e questo sarà molto importante per rendere sempre più consapevole tuo figlio nella scelta degli alimenti giusti un'altra cosa importantissima che faremo e questo è l'aspetto ludico avrai già visto nella diretta di martedì sera che ho presentato i trofei a sapore ai sapori e quindi anche quest'anno faremo la consueta gara di torte dove ogni bambino sarà il giudice che potrà decretare la vittoria dei primi tre delle prime tre torte che vinceranno i primi trofei bene fatto questo ci sarà poi un laboratorio che riguarda lo spazzolamento dei denti quindi che cosa devi portare il tuo figlio o i tuoi figli devi portare una torta la più buona che sai fare per non più di sei persone quindi non importa portare delle torte troppo grandi portare ogni bambino può portare i contenitori delle bevande o delle merendine che normalmente utilizza in modo da poterli analizzare insieme ed uno spazzolino usato in modo tale che poi insieme possiamo fare lo spazzolamento e rivedere la metodica di spazzolamento quindi ti aspetto sabato 7 dicembre alle ore 10 e mi raccomando dai la tua conferma perché abbiamo solamente 30 posti disponibili quindi ti aspettiamo aspettiamo i tuoi bambini e un bacio a prestissimo ciao